Chi è colpito con otto coltellate Nicolò Bettarini domenica mattina all'esterno dell'All Fashion sarebbe riuscito ad entrare nel locale che è provvisto di metal detector con un coltello dalla lama di 20 centimetri e uno dei particolari che emerge dalle indagini della squadra mobile. Sul tavolo del CONI è arrivato anche il dossier per la candidatura di Milano alle Olimpiadi Invernali del 2026. Ottimismo da parte di Fontana mentre Sala dice avremmo dovuto lavorare su Milano e Torino insieme. Tragedia ieri sera a Cormano dove un uomo di 43 anni ha ucciso il padre la compagna di lui per poi spararsi alla tempia. Il movente sarebbe legato al licenziamento dell'uomo nell'azienda di famiglia. Due italiani accusati dell'aggressione di due dipendenti ATM avvenuta lo scorso 13 di maggio sono stati arrestati a incastrarli le immagini delle telecamere di sorveglianza. L'aggressione era accaduta intorno alle 3 di notte in piazzale Cadorna. Buonasera, buonasera anche dal TGN e benvenuti a questa edizione che apriamo con un'ampia pagina dedicata alla cronaca perché domani il GIP interrogerà in carcere a San Vittore le quattro persone coinvolte nell'aggressione a Nicolo Bettarini, figlio di Simona Ventura, coltellato davanti alla discoteca All Fashion domenica mattina. Principale sospettato è Davide cadeo di 29 anni con precedenti penali. Intanto il ragazzo è in via di guarigione dopo l'intervento chirurgico subito ad una mano che è l'intervento che è riuscito molto bene. Sentiamo Alberto Carreras. Saranno interrogati domani mattina nel carcere di San Vittore dal giudice Stefania Pepe i quattro fermati con l'accusa di tentato omicidio aggravato dai motivi abbietti e futili per l'aggressione a coltellate nei confronti di Nicolo Bettarini, figlio di Stefano e Simona Ventura, rimasto ferito domenica mattina davanti alla discoteca All Fashion. La procura ha chiesto la convalida dei fermi, la custodia in carcere per tutti e quattro, due italiani e due albanesi, tra cui Davide Caddeo, 29 anni, principale sospettato di aver inferto i fendenti a Bettarini con una sfilza di precedenti penali per risse e lesioni e più volte denunciato per porto abusivo d'armi perché girava con un coltello a serramanico. Fuori dalla discoteca un amico di Bettarini, stando alle indagini, sarebbe stato aggredito dai quattro e poi Bettarini, intervenuto a sua difesa, è stato picchiato e accoltellato. Dopo gli interrogatori il giudice deciderà sulle convalide dei fermi e sulle misure cautelari. Intanto uno dei fermati, Alessandro Ferzoco, di 24 anni, attraverso il suo avvocato ha detto di essere dispiaciuto per lui e di aver saputo solo in carcere che era figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura. Ferzoco ha ribadito di non essere stato lui il feritore e di non aver visto chi sia stato l'autore del gesto. Secondo una ricostruzione degli investigatori, Ferzoco e un amico di Bettarini avevano litigato quattro mesi fa in un'altra discoteca milanese per una banale questione di tavoli nel privé. Sembrava tutto finito, invece i due si sono ritrovati nell'old fashion ed è scoppiata nuovamente una lite nella quale Niccolò Bettarini ha subito 11 coltellate. Fortunatamente l'operazione a cui è stato sottoposto ad una mano è perfettamente riuscita, tra qualche giorno farà ritorno a casa. La discoteca resterà chiusa per 30 giorni su ordine del questore. E a proposito della discoteca c'è un particolare che emerge dall'inchiesta, ovvero colui che ha colpito con otto coltellate, Niccolò Bettarini, sarebbe riuscito a entrare la sera di sabato con un coltello dalla lama di circa 20 centimetri di lunghezza nel locale. Ed è la stessa arma che poi avrebbe utilizzato per l'aggressione. Quindi nonostante la presenza del metal detector nel locale, l'uomo sarebbe riuscito appunto a portare dentro il coltello. Adesso parliamo di Olimpiadi perché anche il dossier di Milano per la candidatura alle Olimpiadi invernale nel 2026 è arrivato al CONI. In mattinata era arrivato quello di Cortina e in serata arriva anche quello di Torino. Ma sentiamo la soddisfazione da parte del sindaco di Milano e anche del governatore Lombardo Fontana. Io avanzo la candidatura in Milano perché da quello che capisco, ovviamente è la mia, il mio livello di comprensione, la candidatura di Milano può essere la più forte. Ricordisco che all'inizio io avevo offerto anche collaborazione a Torino, la disponibilità a lavorare assieme, ma c'era stato abbastanza un blocco dal sistema torinese e quindi non mi riferisco solo al sindaco. Rimango convinto che non sia facile che a soli 12 anni di distanza vengano riassegnate le Olimpiadi a Torino, quindi probabilmente era un'opzione migliore lavorare Milano e Torino. Credo che la nostra proposta sia sicuramente migliore da tutti i punti di vista, anche infrastrutturali, anche la vicinanza agli aeroporti. Credo veramente che il dossier di Milano sia ottimo. Appunto, le infrastrutture, uno dei temi su cui punta sicuramente la Lombardia e anche Milano ed è anche uno dei temi forse più in discussione all'interno del nuovo governo, sapete soprattutto riferendoci alla TAV. Bene, oggi il sindaco di Milano Sala ha parlato proprio di questo e ha detto, chiedo a questo governo di fare una riflessione sulle opere perché leggiamo sui giornali e vediamo che ancora ci sono dubbi su come proseguire, ad esempio sulla Torino, Leone e anche sul Terzo Valico. Il mio richiamo è quello che c'è un tempo per discutere, per decidere e per fare. È impossibile continuare a discutere le cose. Il mio augurio a tutti noi che questa stagione positiva di infrastrutture del ferro continui, che sia allineata alle politiche del Paese, che vada nella direzione dei bisogni dei cittadini. Come sindaco di Milano sostengo la necessità di partire con la realizzazione dei lavori di prolungamento della metropolitana verso Monza. Questa, appunto, secondo Sala è la prima priorità. Ancora cronaca tragedia nella serata di ieri a Cormano, dove Maurizio Platini, di 43 anni, ha ucciso il padre e la compagna del padre prima di spararsi alla tempia. Il movente della strage sarebbe legato al licenziamento dell'uomo dall'azienda di famiglia. Sentiamo Jacopo Casoni. Gli ha uccisi con la sua 357 Magnum, regolarmente registrata. Ha freddato il padre, mentre era ancora dietro la scrivania del suo ufficio alla Sericart di Cormano, un colpo alla testa. Poi ha raggiunto la compagna del genitore, di 11 anni più giovane, socia della ditta, e non le ha lasciato scampo. Da ultimo ha rivolto la pistola contro se stesso e l'ha fatta finita. Maurizio Platini, di anni, ne aveva 43 e, stando ai primi riscontri delle indagini affidate ai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, non aveva mai superato la scelta del padre di dismettere l'azienda di famiglia, attiva nella grafica pubblicitaria, dalla cartellonistica alla serigrafia, senza prevedere che passasse ai figli. Anzi, pare che questi fossero stati licenziati pochi giorni fa. Un affronto che aveva provato Maurizio Platini e forse, insieme a motivi di natura personale, ha portato alla lite di ieri sera e alla strage che ne è seguita. A trovare i corpi, alcune ore dopo l'accaduto, il fratello minore che, non vedendo rientrare i genitori, si è recato presso la sede di via Zara, al civico 22. Una personalità complessa, quella di Maurizio Platini, come raccontano alcuni conoscenti della famiglia, certamente aggravata dalle tensioni lavorative che ormai si stavano accumulando da tempo. I carabinieri lo hanno trovato a terra, con la pistola ancora in mano e una ferita alla tempia, in mezzo al corridoio tra l'ufficio del padre e il corpo della compagna di quest'ultimo. Una tragedia sulla quale restano pochi dettagli da chiarire, con il PM, titolare delle indagini, Cristiana Roveda, che ha disposto l'autopsia sui corpi delle vittime e dell'omicida dopo aver posto sotto sequestro l'arma. C'è una notizia che riguarda i bambini, in particolare la scuola materna comunale Leone Fortis, perché erano stati avvistati all'interno della scuola materna dei topi, pensate a novembre, poi c'era stato ovviamente l'allarme, un esposto e quindi poi un sopralluogo e era stata svolta una derattizzazione, ma riconosciuta come insufficiente. Infatti a metà maggio e a metà giugno erano stati svolti sei interventi di emergenza dal servizio di derattizzazione del Comune di Milano. Il 22 giugno il Comune di Milano aveva dichiarato risolto il problema, ma tra il 25 e il 27 sono stati avvistati di nuovo due topi all'interno della scuola e quindi a questo punto è stato presentato un altro esposto. L'assessore alla mobilità e all'ambiente del Comune di Milano Granelli ha risposto che il problema sarà affrontato e bisognerà analizzare anche il problema dei rifiuti e della pulizia, perché appunto legati alla questione dell'avvistamento dei topi. Adesso invece torniamo al governatore della Lombardia Fontana che ha parlato appunto di Trenord e del rapporto con le ferrovie dello Stato. Noi abbiamo presentato la nostra proposta, Ferrovie dello Stato la sta valutando e la prossima settimana, dice Fontana, ci sarà un incontro tra Trenord, le ferrovie dello Stato e noi azionisti per capire quali sono i punti di accordo e cercare di risolvere gli eventuali punti di attrito. La società è posseduta da 50% da Regione Lombardia tramite le ferrovie Nord e al 50% da Trenitalia. Proprio per questo è necessario questo incontro, Fontana ha anche detto sul cambio dei vertici di Trenord, l'azionista è Ferrovie Nord e quindi su questo non voglio sbilanciarmi. Adesso andiamo in questura perché due ragazzi maggiorenni sono stati arrestati mentre un terzo minorenne è stato raggiunto da un provvedimento di custodia cautelare. L'accusa vera ha aggredito a Milano il 13 maggio scorso due controllori di ATM e decisive per incastrare i ragazzi sono state le telecamere di sicurezza presenti sui mezzi e anche in piazzale Cadorna. Ci racconta tutto Michele Lanati. Si è chiusa con l'arresto di due persone l'indagine relativa all'aggressione subita a Milano da due dipendenti di ATM il 13 maggio scorso. I fermati sono il 23enne Lorenzo Pierre Leblanche e il 25enne Leon Wilson Mohamed Tuil, due ragazzi nati nel capoluogo Lombardo e in possesso della cittadinanza italiana. I due abitano nei pressi di Via Creta, hanno precedenti e devono rispondere delle accuse di lesioni gravi in concorso, interruzione di pubblico servizio, violenza e minaccia. Per gli stessi motivi anche un ragazzo 17enne è stato raggiunto dall'ordinanza cautelare. L'episodio si è verificato come detto il 13 maggio, dopo le tre di notte, quando a Porta Genova tre ragazzi hanno dato in escandescenza per non essere riusciti a salire su un bus affollato della linea sostitutiva della metropolitana M2. Il conducente si era accorto dell'atteggiamento molesto dei tre e appena ha potuto ha chiuso le porte del mezzo per evitare che salissero. I ragazzi hanno preso però il bus successivo e una volta giunti a piazzale Cadorna hanno riconosciuto l'autista che non li aveva lasciati salire prima e si sono scatenati, aggredendo, ferendoli, due controllori. Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi e del piazzale e l'operazione, condotta dalla polizia di Milano, si è svolta in sinergia tra le forze dell'ordine e la TM. Un episodio che conferma come Milano nella lotta ai violenti presenti sui mezzi pubblici sia all'avanguardia. È assolutamente all'avanguardia sia per tutto quello che è sicurezza passiva di cui si è dotata proprio l'azienda, ma anche grazie al contributo che noi quotidianamente diamo con dei servizi mirati, con un ufficio, con un gruppo di uomini specializzati e credo di poter dire che siamo fra gli unici in Europa e sicuramente gli unici in Italia. Una notizia dal Consiglio regionale. Via libera appunto dal Consiglio regionale a una mozione che impegna la Giunta ad attuare un censimento dei residenti e degli insediamenti rom presenti nel territorio della regione e poi la chiusura dei campi irregolari. La mozione è stata presentata dalla Consigliera di Forza Italia Silvia Sardone, è stato approvato con 39 voti favorevoli e 31 contrari. Parere positivo anche dall'assessore alla sicurezza Riccardo Decorato. Ora andiamo in tribunale a Milano faccia a faccia tra Belen Rodriguez e Nina Moric questa mattina in aula prima dell'inizio dell'udienza nel processo per diffamazione aggravata da un fatto determinato a carico di Nina Moric. La Moric infatti definì viado la showgirl argentina in un'intervista del 3 settembre 2015 a Radio 24. Quando nell'intervista ho dato a Belen del viado intendevo che ha fatto abuso della chirurgia estetica, era solo una critica, si è difesa così Nina Moric che aveva definito la Belen una strega cattiva, un viado e ha anche detto che girava nuda per casa anche alla presenza del figlio della Moric e di Corona. Accuse che sono valse alla modella croata, una querela per diffamazione aggravata, reato per il quale è prevista una pena da 1 a 6 anni. Io non l'ho mai accusata di molestie sessuali, ha detto Nina Moric, ma se mio figlio viene a casa e dice che Belen gira nuda, io gli credo. Belen ha spiegato, più volte sono stata insultata da lei per telefono, una volta l'ho perfino invitata a cena a casa per farle vedere dove dormiva il figlio, ma non c'è stato verso. Comunque in ogni caso l'udienza è stata aggiornata al prossimo 11 di settembre. Cambiamo argomento, l'assessore ambiente e mobilità del Comune di Milano Marco Granelli respinge le accusa che i nuovi provvedimenti decisivi contro i mezzi diesel possano causare un danno al mercato dell'auto, anzi Granelli sostiene che favoriranno un ricambio dei mezzi. Vediamo. Avanti tutta con la lotta allo smog. L'assessore a mobilità e ambiente del Comune di Milano Marco Granelli, che oggi ha aperto un evento nel corso del quale è stato presentato il bilancio di sostenibilità di A2A, rivendica le azioni fatte e programmate dalla Giunta nell'ottica di combattere l'inquinamento. Al centro ovviamente resta il provvedimento che prevede a partire da gennaio del 2019 il divieto di ingresso in città dei diesel Euro 0, 1, 2 e 3 senza filtro antiparticolato. Un piano che mira alla progressiva scomparsa dal capoluogo lombardo dei veicoli più inquinanti, fino allo stop totale per tutti i mezzi diesel nel 2025. A chi fa notare a Granelli che il mercato dell'auto ha subito una brusca frenata a giugno e che in particolare a Milano e nell'Interland. Gli esperti del settore temono che i provvedimenti adottati dal Comune finiranno per avere un'ulteriore ricaduta negativa, risponde rilanciando che la direzione è quella giusta e favorirà anzi un ricambio del parco auto. E in quest'ottica l'esponente della Giunta Sala si aspetta che anche la Regione Lombardia faccia la propria parte. Abbiamo messo 6 milioni di euro di incentivi proprio per i mezzi commerciali, cioè chi li usa per lavoro per cambiare il veicolo. Attendiamo che su questa Regione, oltre alle dichiarazioni, emetta anche su un bando. La Regione ha già 2 milioni di euro che il Governo ha dato a giugno dello scorso anno, ma il bando non è ancora uscito. Dobbiamo essere tutti uniti per fare un cambio del comportamento del parco mezzi se vogliamo più salute per noi e per i nostri figli. Ancora cronaca, 4 persone sono morte in un incidente stradale alle 10 di questa mattina ad Albano Sant'Alessandro sulla statale 42 del Tonale in provincia di Bergamo. Le vittime sono 3 milanesi, si tratta di un'intera famiglia di padre, madre e figlia che viaggiavano su una auto Toyota Corolla, auto che si è scontrata con un camion a rimorchio. L'utilitaria è stata catapultata oltre una piccola scarpata finendo la sua corsa a decine di metri di distanza sulla strada che scorre al di sotto del cavalcavia. Il mezzo pesante ha poi travolto un'astra guidata da un uomo. Tutte le persone che viaggiavano sulle automobili sono morte sul colpo mentre il camionista di 34 anni è stato trasportato all'ospedale Gavazzeni di Bergamo ma le sue condizioni per fortuna non sono gravi. Mentre 11 persone sono state arrestate in varie province lombarde con l'accusa di far parte di una banda dedita ai furti di mezzi pesanti e di attrezzature. Si tratta di un bottino da un milione di euro. Jacopo Casoni. Un valore complessivo di un milione di euro. Otto colpi andati a segno e altrettanti sventati in qualche modo. Sono 11 le persone raggiunte da ordinanze di custodia cautelare, otto in carcere e tre ai domiciliari, tutte accusate di far parte di una banda dedita ai furti di mezzi pesanti. L'indagine condotta dai carabinieri di Vimercate è partita due anni fa e in questo periodo ha consentito di documentare l'esistenza di un vero sodalizio criminale strutturato con ruoli assegnati dai pali agli autisti dei tir che oltre ai mezzi si concentrava anche sulle targhe degli auto articolati, sul gasolio e su vari muletti, dagli escavatori ai trattori stradali fino ai transpallet, gli elevatori per trasportare e caricare la merce imballata. Nel corso delle indagini è stato anche individuato un capannone a Bellusco dove il gruppo nascondeva il provento dell'attività illecita nei giorni appena successivi ai colpi, ma anche una modalità di gestione centralizzata dei ricavi del riciclaggio della merce rubata, in parte destinati anche al sostentamento dei componenti della banda in caso di arresto. Gli 11 sono tutti italiani e hanno tra i 24 e i 68 anni. Scorporando la rifurtiva, per così dire, si contano due trattori stradali, altrettanti semi rimorchi, un autocarro, addirittura un escavatore, tre muletti e tre transpallet. I litri di gasolio rinvenuti sono 600 e a questo elenco va aggiunta merce di vario genere, materiale da imballaggio, attrezzatura da lavoro, polimeri. Il tutto ribadiamo per un valore di circa un milione di euro. La squadra mobile di Lodi ha denunciato per danneggiamento e imbrattamento di esercizio pubblico un uomo, pensate, di 78 anni che è accusato di aver fatto una scritta dai contenuti omofobi, comparsa alcuni mesi fa all'esterno di un ristorante di Milano in zona Porta Romana e anche della foratura di tre pneumatici di un furgone parcheggiato davanti all'ingresso del locale. L'uomo era già stato denunciato nel dicembre scorso con l'accusa di aver tagliato le gomme a cinque auto nel comune di residenza e una ventina di veicoli privati parcheggiati in paesi. Insomma 78 anni ma diciamo molto attivo. Cambiamo argomento, adesso parliamo di una iniziativa dell'ospedale Humanitas, Smack Smokers Health Multiple Action, cioè un progetto di screening gratuito per forti fumatori ed ex fumatori. Progetto che prevede un'attacca toracica a basso dosaggio associata ad un'intensa attività antifumo. Lo studio è rivolto ai fumatori da più di 30 anni o anche agli ex fumatori con età superiore ai 55 anni. Prevede appunto l'esecuzione di alcuni esami tra cui il calcio coronarico e l'attacca e anche la spirometria. Poi si parla anche di una prevenzione realizzata con percorsi personalizzati che aiutino i partecipanti allo screening ad abbandonare il fumo. Per partecipare basta contattare il proprio medico di famiglia oppure mandare una mail all'indirizzo smak-humanitas.it. Voltiamo ancora pagina. Torna in agosto l'iniziativa di sostegno agli anziani in difficoltà promossa da Caritas Ambrosiana in collaborazione con il Comune di Milano. Si tratta di personal shopper che quest'anno riguarderà il quartiere Città Studi. Ce lo racconta Anna Maria Braccini. Agosto città deserte e per alcune categorie già di per sé fragili come gli anziani diventa un problema ancora più grave. Per questo l'Associazione Volontari di Caritas Ambrosiana cerca rinforzi per assicurare anche quest'anno personal shopper, il servizio di sostegno domiciliare appunto alle persone anziane in difficoltà. Il progetto realizzato in collaborazione con il Comune di Milano consiste nella consegna di un pasto e a richiesta della persona prevede anche la possibilità di offrire al beneficiario l'acquisto della spesa o di farmaci. Piccole incommense quotidiane, si dirà, che però d'estate diventano particolarmente preziose per chi ha difficoltà a muoversi. Il servizio coprirà l'intero mese di agosto e riguarderà quest'anno il quartiere Città Studi. Ai volontari che accetteranno di diventare personal shopper è richiesto un impegno di qualche ora, dalle 11 alle 13, anche solo per una settimana oppure per qualche giorno all'interno del mese di agosto. Dal 2000 sono stati complessivamente 800 i cittadini che hanno scelto di dedicare gratuitamente qualche momento del loro tempo a questa attività. Sono insegnanti professionisti per la maggioranza, uomini e donne in pari numero, con un'età media di 40 anni. Per aderire alla proposta si può chiamare l'Associazione Volontari di Caritas Ambrosiana oppure inviare una mail a volontari-caritasambrosiana.it Un modo semplice e gratificante per offrire il proprio aiuto, ha sottolineato Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana, sottolineando la rilevanza anche sociale di questo servizio che in 18 anni ha registrato un crescente successo. Era l'ultimo servizio, mi fermo qui. Prima di chiudere vi ricordo i programmi della serata dopo il TGN, il Nova Stadio TG, il nostro telegiornale sportivo, poi Nova Stadio Sprint con Michele Marchetti e i suoi ospiti e poi è martedì quindi alle 21 c'è TV Click con Michele Lanati e i suoi ospiti per commentare i video più discussi della rete. Arrivederci. Grazie. Grazie a tutti.